La Madonna Fatima ha promesso un'era di pace, dovrebbe coincidere con il trionfo del suo cuore immacolato. Non dovrebbe mancare molto, se è vero, se è vero, metto il condizionale, non fatevi dire quello che non ho detto, se è vero che il Padre Dio ai bambini degli anni 50 ha predetto che avrebbero visto il trionfo del cuore immacolato di Maria, che è nato negli anni 50, 70 anni, e questo non dovrebbe mancare voto.